Come abbiamo detto, quelle che sono più monocraniche e polocraniche per il tempo, però penso anche di stamattina, Umberto, perché oggi, penso di stamattina, perché abbiamo avuto le nostre riunioni per le 9 e io alle 8 e mezzo gli ho detto, Umberto, sono qui. E lui ha detto, ma Cinzia è alle 9 il meeting? Io gli ho detto, sì, però io sono andato in Milano, noi siamo qui alle 8 e mezza, preparati per le 9 e per lui sono un trentino che è arrivato tutto da sola e gli ho detto, non c'è nessuno, c'è un problema. Allora ha detto, ah, siamo a Roma e infatti abbiamo cominciato alle 9 e mezzo, che bellissimo, perché uno deve avere, per quello che tutti vogliono andare a Roma, non a Milano. Allora c'è, è più che si va, più che. Però se uno, il problema è se uno non capisce il mondo policronico. Siete a Casa Blanca che abbiamo fatto questo per il campo di lavoro, io ho fatto vedere questo slide e c'è stato uno moroccan che ha detto, io non posso credere. E io ho detto, ma cos'è che non c'è da credere? Io non posso credere che nessuno può essere monocronico, è la cosa più noiosa che ho mai sentito nella mia vita. E infatti quando loro hanno i rapporti arabi, si deve prendere molto di più tempo per andare lì, per te, per per parlare di altre cose. Ci vediamo. Comunque, prossima slide. Sì. E questo io adoro. E questo è il contesto di comunicazione, perché quando uno è monocronico, si usa il contesto di parlare che è tutto nero e bianco. Non c'è questa forza, non c'è altro. È nero e bianco e tutto deve essere molto chiaro. No, ci sono tanti paesi che non dev'essere, ma non dev'essere chiaro. Deve essere come il... Cintia, sentite voi Cintia? No, la vendetta dei monocronici. Sì, 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 siamo vendicati tutti i monocronici insieme. Allora, questa è la letteratura. Mentre si ricollega in letteratura, questo lo trovate ancora sempre in inglese, high context and low context. Allora, vedete, nel high context cosa significa? Significa che l'interpretazione di quello che qualcuno dice dipende dal contesto. Per esempio, l'italiano è high context or low context? Che direste? La lingua italiana è high context or low context? High. Molto high. L'arabo? Penso low. No, l'arabo è high. No, lo stesso, lo stesso. Considerate che ci sono oltre 30 termini per descrivere il cammello. Ah, ok. O pensate, per esempio, il russo. Ci sono una cinquantina di termini per descrivere il vento. Sono high context. Mentre invece l'inglese, secondo voi, la lingua inglese, è high o low? Low. È low. Non è un caso che è un po' una lingua internazionale, no? Perché il low context, come vedete dalla rappresentazione, aspettiamo Cynthia, ma come vedete dalla rappresentazione cosa succede? È tutto lineare. Cioè, se tu dici un qualcosa, si significa sì, come c'è scritto qui. No? Per cui il contenuto, il messaggio contiene integralmente tutte le informazioni. Nelle lingue high context, nelle culture low context, no? Devi andare a capire quello che c'è scritto. Al di là, tanto è vero che c'è un'espressione giapponese, si dice kuki yomenai. Che significa kuki yomenai? Significa leggere l'aria. Capite che significa leggere l'aria? Cioè, significa interpretare quello che c'è nell'aria, che è esattamente high context. Molte lingue orientali sono high context, per esempio. Molto, molto high context, perché il rapporto è questo. Ma dove stai? Io non ti ho più vista. No, no, c'è stato un piccolo, piccolo. Ah, scusa, io andavo avanti perché non vedevo l'immagine tua. Hai fatto benissimo. Ok, scusami. È molto, molto bene. Vai, vai. No, no, però hai detto qualcosa importantissimo, perché parliamo. Adesso è incredibile. Io, come work con tanti giovani, non puoi mentire di giovani, è loro, è normale di lavorare un giorno in America, o per i giapponesi con una squadra. Allora è diventato normale. E tutte queste cose contesti, piuttosto che in Asia, non cambia così. e probabilmente non mai, è ancora più forte nel mondo arabo. Vediamo che queste cose sono le basi dei conflitti che vediamo. Cynthia, posso raccontare una cosa? Poi sto zitto. Per cortesia. Allora, il massimo è stata una negoziazione tra giapponesi e miratini. Il massimo. Perché a un certo punto parlavano di cose molto importanti. Allora, andiamo diretti. Gli emiratini, secondo voi, i emirati arabi, dove sono? High o low? I arabi sono molto high. Sono molto high. E i giapponesi sono molto low. Allora, parlavano tra di loro. No, 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 sono molto high anche loro, perché non si può capire. Non è nero e bianco. Scusa, scusa, sono molto high. Però tra di loro, perché mi riaggancio a quello che diceva prima Cynthia, cioè del fatto, non è vero high context e quello che diceva prima, cioè in relazione al monocronico e policronico, no? Per cui nel mondo arabo si fanno sette cose insieme. Tu stai negoziando la cosa più importante al mondo, arriva il bambino che vuole salutare il papà e si ferma, arriva la chiamata del fratello che sta negli Stati Uniti e loro si fermano. I giapponesi, invece, ovviamente non è così. Per cui a un certo punto si respirava un'aria terribile. Perché? Perché gli emiratini gestivano la situazione secondo la loro cultura, ma i giapponesi erano completamente arrabbiati, solo che nel mondo asiatico la rabbia non si può, a proposito delle emozioni, manifestare. Per cui vedevate proprio uno shock culturale, in questo senso, dove queste due culture non si parlavano proprio e ognuno si irrigidiva sempre di più. Per cui i giapponesi sempre più rigidi, sempre più formali, senza manifestare nulla. Gli arabi, invece, continuavano sempre nel loro modo di parlare di cheat-chat, cioè parlare di cose apparentemente che non c'entrano nulla. Per cui quello che diceva Cynthia, attenzione che il mondo sportivo è fortemente multiculturale. Pensate anche a degli eventi, quali le Olimpiadi, per esempio, dove ci sono degli aneddoti, adesso non abbiamo tempo, ma ci sono degli aneddoti fenomenali, dove culture che non si capiscono fanno dei clash incredibili. Pensate, ecco, basta, sto zitto. E poi quelli che sono persi, quelli che vengono, i svedesi che vengono qui da giocare, i giovani, sono persi, non possono capire le culture dove sono, come direi, gire, sono fuori del giro. Cosa soffrono quando giocano? Certo. Perché abbiamo visto oggi, stamattina, perché è un hijack, un migdala. La migdala hijack, sì. La cosa più importante è come costruire la fiducia con queste cose. Ci sono le culture dove la cosa più importante è la competenza e le arti e posso coprirvi. E quando c'è una cultura che è in molto alto contesto, si deve proprio capire dell'aria. e allora loro cercano sempre la credibilità e la trust, diversamente che quella che you are what you do. è molto interessante con questo di fare nella mattina un'unione internazionale quando fanno l'introduzione, perché quelli dell'Ouest fanno, you know, I'm Joe, this is my job, this is where I'm from, and I'll tell you a joke, the Americans. Poi, però, se uno viene proprio di una paese, just l'altro giorno c'è stato uno dei paesi erobili che ha detto, io sono, io sono Abu Hussein al pacco, e lui ha continuato a dire che è sua madre, che è sue cose, eccetera. Tu ti erai guardato come sei stato pazzo, però invece, no, lui ha dato tutto il secreto di come lavorare nel suo paese con lui, chi lui conosce, perché non vai nel suo paese se tu non conosci qualcuno. E allora è molto importante chi sei e tua connessione. E allora, uno deve essere sempre questo detective, Inspector Falk, di capire cosa è il cappello di mettere e di parlare di competenza o credibilità. Allora, questi sono i, che io uso molto spesso quando ho i problemi con altre culture, fascinante, perché possiamo stare ore su questo e poi dopo i conflitti cominciano ad andare via. Mi ha detto uno texicano con i cinesi, ha detto, io ho saputo che siamo diversi, però non ho mai saputo che siamo così diversi. Quando i cinesi hanno fatto questo, che facciamo sempre in classe, loro lo fanno, non potevano farlo. Devi farlo qui, è l'esercizio. E hanno detto, no, noi non possiamo, dobbiamo andare stasera e facciamo tutti insieme e poi dopo domani possiamo darlo. Non è l'idea di questo, è l'idea. Non potevano, non potevano. Perché nella loro cultura vuol dire essere fuori del gruppo. Possiamo immaginare dove voi siete, dove abbiamo già fatto tutto questo, però la cosa che è importantissima è che su tutto quello c'è la fiducia. Secondo voi qual è la dimensione che vi ha colpito di più? Che per voi è una che può creare, possiamo dire, i problemi nel lavoro, tra tutte queste dimensioni? E poi di identificare le emozioni che vengono da quella? Torno indietro allora sulla slide, così loro ce l'hanno sott'occhio. Daniela, qual è quella più forte per te? Me? Quella che mi rappresenta di più? Non capito la domanda. Sì, questo per me è un valore molto importante. Io devo avere questo per lavorare bene, per avere una squadra dove io sto bene. Ah, ok. Sì. Sicuramente il valore policromatico. Qual è? Il valore policromatico. Policromatico. Perché preferisci o perché sei monocronico? No, no, perché preferisco il valore policromatico. È molto importante anche nella gestione dei rapporti interpersonali, ma anche come valore di lavoro. Penso che sia un humus buono per risolvere anche i conflitti. Mi chiedo scusa, qui c'è un piccolo errore di traduzione, ma è policronico, monocronico, non cromatico. Corretto da solo, policronico. Policronico. Cioè, più cose nello stesso vita di tempo. È policronico, assoluto. Grazie, grazie, grazie. Non policromatico. È così importante, Daniele, perché io ho visto tanti, questa è grande parte del business per uno che fa il cross-cultural formazione e risoluzione. Mi ricordo bene un gruppo inglese che è venuto in Italia e anche se è stato in Nord hanno dovuto lavorare in tutto il paese. e sono arrivati e è stata una compagnia che è stata sempre privata di famiglia che hanno comprato l'inglese e sono arrivati e mi hanno dato questo nuovo direttore. Io sono sicura che loro sarebbero così contenti perché noi abbiamo tutti questi nuovi metodi, questi nuovi materiali, devi andare molto bene e noi andiamo al sud, a Napoli. e ho detto e allora poco in altro mondo e aveva non aderato molto bene e lui ha detto prima cosa che voglio abbiamo fatto una grande meeting, prima meeting lui ha detto facciamo una meeting, facciamo e lui ha detto allora io prima cosa che voglio fare prima settimana e dicono visione, visione e strategia e una vicina di me ha detto visione magari se non ci sono e poi ha dato tutto il suo elenco e infatti questa compagnia non poteva perché è stato nel mondo di public works dell'acqua figurati figurati uno deve you have to know where you are di proprio capire queste cose e uno dei conflitti che sto facendo in Egitto il problema è stato che con tutti questi paesi che sono della parte della Grecia della svedese di danese americani francesi per loro le regole sono tutte l'onore di seguire tutte queste regole e di essere democratica abbiamo avuto un nuovo capo direttore che è stato da parte egiziano che è stato egiziano spagnolo messicane un po' di italiani hanno andato in un'altra direzione perché non è stata chiara comunicazione è stata molto fatta fra loro e poi loro sono stati completamente d'accordo con cos'è che ha deciso il nuovo capo perché è stato il capo e allora si può vedere questa differenza tra democrazia e quello che hanno in connessione e queste connessioni sono tutte perché sennò è così instabile povera 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 Daniela posso chiedere chiedo scusa posso chiedere gentilezza Daniela se spegne il microfono perché sentiamo il rumore sotto di fondo poi quando vuole intervenire è liberissima grazie ok vediamo però dobbiamo utilizzare questo per quando andiamo ai conflitti ok vado avanti e questo abbiamo già fatto questo abbiamo già fatto e abbiamo detto un po' di quello sì dei conflitti ok vogliamo adesso cominciare a pensare dei conflitti e di abbiamo un tool come dici una strategia in italiano un strumento questo è strumento per utilizzare se voi avete quello voi potete utilizzarlo in quasi tutti i mondi per capire il perché il perché allora abbiamo parlato già di questo di come importante più della metà del mondo di avere questa fiducia che ci vuole dire di avere il rapporto che vuol dire di andare alle cene che vuol dire di conoscere la gente per avere questa ossitosina che è essenziale quello che hanno i bambini che noi abbiamo così tra i villaggi tra persone probabilmente i paesi come i americani non sono sono così utili abituati a questo grande spazio non conoscere molto bene profondamente la gente viaggiano sempre meno importanti però ci sono altri paesi che è la colla vediamo il prossimo allora nel mondo di sport dimmi un po' com'è la fiducia e la cultura qui abbiamo un po' di storia di condividere di come è stato importante o non importante questo fattore o il fattore culturale così sono i fattori più importanti nel mondo di sport secondo voi o possiamo parlare in generale così si può pensare di quello tema che abbiamo visto il rapporto di fiducia pensate un momento al rapporto tra allenatore e atleta è un rapporto che si basa quasi esclusivamente sulla fiducia no? yes e perché perché si deve tornare all'ultima slide se voi non avete fra loro voi l'oxitocin ossitocina l'oxitocin per fare così la cola non avete la fiducia non si seguono bene le comande non si sente intoccati quello è essenziale mi pare che viene adesso però avete già parlato del mirror neurons altre cose da dire qualcuno su quella però è come ricostruire la fiducia che è importante perché ma si vede molto molto spesso qui in Italia si nota tutta una squadra di giocatori giovani professionisti mangiare sempre insieme come una team e c'è una ragione si deve continuare ad avere queste connezioni perché quando c'è il momento di dare la palla a qualcuno si deve avere questa fiducia si deve avere lo stesso tipo di connezione per avere la serotonina che mi pare che adesso voi avete capito un po' la differenza fra però abbiamo visto che anche con il nostro tipo Bayer's Briggs che abbiamo questa informazione per ogni tipo che abbiamo bisogno di uno o l'altro per essere per fare la colla fra la gente vediamo il prossimo vado avanti questi mirror neurons che sono essenziali nel vostro campo perché per prima chi ha secondo voi fra voi chi ha bisogno di questi quando è che si può notare questa interconezione questo sono i veri neuroni i neuroni specchio specchio mirror neurons perché loro vanno assolutamente insieme come si vede qui sono sulla stessa dobbiamo sapere che quando noi parliamo di questo neuroplasticity dei neuroni non è lì che si succede sei nel spazio nell'aria che è questo frequency che è qua che fa questa connessione questa interconezione per prendere la palla per fare eccetera per ricevere per dare allora questo è così così importante e allora quando è il momento quando è che voi nel mondo di sport vediamo voi potete vedere questa connessione di mirror neurons when you play ball when you play ball sai perché perché tutti tutti quelli che stanno lì a televisione i fans the fans loro hanno tutti questi mirror neurons che vanno allora uno che non ha l'interesse nei sports loro possono vedere a televisione possono vedere giocare non lo toccano però sì i loro mirror neurons vanno wow un paese come l'Italia come l'Egitto come come il Brasil loro hanno un paese collettivo questo è la collettivo è fortissimo senza questo voi non avete ticket sold no games nobody's interested aspettiamo che questo vado insomma allora c'è un microfono aperto c'è un microfono aperto ok questo come diceva giustamente Cynthia però pensate anche al mondo sportivo questo lo trovate anche avete visto per esempio nella lettura del linguaggio non verbale per esempio in uno sport sia individuale che di squadra come per esempio il tecnico comunica con l'atleta quanto è importante si dice a volte capirsi con lo sguardo o altre frasi di questo genere deriva proprio da questo tipo di interconnessione e qui ancora una volta il linguaggio non verbale e la lettura del linguaggio non verbale rivestono un'importanza determinante tante volte ci si capisce con uno sguardo a volte oppure se vedete spesso l'allenatore a bordo campo senza dire nulla come riesce a comunicare con il proprio atleta o con i propri atleti domande osservazioni io volevo sapere se c'erano delle strategie perché è molto interessante la slide precedente quella proprio del sistema di creare fiducia e quali sono gli strumenti per creare fiducia anche in maniera trasversale cioè se ci sono perché molto spesso questo capita sembra quasi per magia per un fatto casuale cioè comunque se ci sono delle ci sono ci sono è come se ci sono è un tema sul quale si sta lavorando molto e vabbè adesso non abbiamo tempo e ne voglio togliere il roto in pazientia però considerate che fiducia significa abbandonarsi in maniera volontaria cioè significa rendersi vulnerabile alle scelte non note dell'altra persona mi seguite? cioè rendersi vulnerabile alle scelte dell'altra persona e queste scelte al momento non sono note dimmi Glesi questo Umberto vuol dire ah sorry I thought you were not online sorry did you try to cut me off? I'm very interested no I can't see you that's the reason why I thought you were offline vulnerabile 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 te lo dico dopo Cynthia ok dopo no perché mi interessa molto perché noi parliamo del cuore della situazione qui per esempio questa idea della mirror neurons no perché devono avere intorno del stadio tutti quelli di comprare t-shirt i pantaloni eccetera stare lì insieme questo è questi mirror neurons perché quando uno sta lì da vedere la televisione per esempio loro sono i giocatori sono collegati questo è tutto l'idea that's a fan però nel loro testa noi sappiamo con l'fmri che nel stesso posto del loro cervello è sempre conneccato allora per quello che può essere i problemi quando non quando si risquadra i problemi fra loro don't kick the ball the same way non è lo stesso un movimento perché dovete avere questa roba di collezione uno pensa di animali per esempio il herd il gruppo di animali in antelopes in Africa muovono insieme muovono insieme these are the mirror neurons loro sanno quando c'è il lion eccetera questo è sport questo che dobbiamo sviluppare è senza fiducia finito insulti finito lasciare loro fuori della cena fuori avere una star e non un equip non funziona perché va tutto insieme siamo ragazzi animali questo anche hai fatto un collegamento molto interessante sul quale si sta lavorando molto cioè si sta cercando di capire per esempio nel mondo animale poi alla fine vedete come le cose tornano sempre le relazioni che ci sono per esempio in uno stormo di uccelli in un gruppo di antilopi ci sono per esempio se voi vedete anche a Roma gli storni cioè gli uccelli che vedete avete visto che tipo di disegni fanno in realtà ci sono proprio delle regole che fanno riferimento a dei neuroni specchio che permettono il coordinamento degli stormi di uccelli avete visto quando fanno quei disegni meravigliosi nel cielo no? e quello è stato anche in parte l'oggetto del premio Nobel del fisico nostro in italiano that's the mirror neurons sono quelli di specchio sono quelli di specchio sono veramente uno guidato con il gruppo sì poi si può tornare agli altri ormoni e vediamo un po' torno agli ormoni? no no possiamo anche continuare ok perché sono qui questo è questo giocatore americano questa è una vera incidente situazione e c'è la torre dell'altra parte e lui è allora è stato un momento quando il giocatore lì ha deciso di fare un programma sulla bias su questi problemi con il giocatore che non dicono mai però e soprattutto è per capire il bias e allora questo americano l'attore lui ha chiamato senza conoscere l'altro ha detto voglio parlare io voglio sapere di te cos'è che io devo sapere come un uomo bianco così sono le cose che io faccio che io non so anche e queste si chiamano le conversazioni difficili è una delle modi che usiamo anche nella management nel mondo di oggi noi non chiediamo noi non c'è un momento che uno può fare mettere veramente sui pantaloni degli altri o pantofoli o come si dice però è proprio di di walk in the same path di sentire le stesse robe e nel mondo di oggi in America che è un momento di esplorsi è l'unica cosa i police devono parlare con quelli perché noi non abbiamo nessuna connessione lì essendo di quella non c'è la fiducia e allora di per voi cosa vuol dire di prendere uno che è stato solo sulle squadre perché non andiamo a prendere una birra insieme può cambiare così o ah è tua festa è tuo compleanno facciamo un piccolo brindisi e così cambia perché noi siamo animali e cambiano tutto però è molto complicato come una violina si deve avere tutti i strings played correctly no? Sì tutti gli accordi sì e più che si può capire il cervello più che si può fare quello che voi fate una roba fantastica di parlare dei sforzi del cervello è tutto vediamo il prossimo slide dati meccaniche è meglio accio e allora questa è una roba che usiamo molto nel leadership solamente per cenarlo che hanno questo viene del lavoro di David Rock lui è il primo ad utilizzare la parola neuroleadership che lui ha usato nel 2006 2007 in Asolo un australiano e lui ha parlato prima volta del neuroleadership e adesso tutti parlano di quello e è una roba molto molto semplice che lui ha fatto vedere e noi sono un consulente con loro e le cose che vediamo sempre è che su il cervello e sappiamo che va subito al threat alla cosa che minaccia e per proteggerli è solamente dopo la parte che è sul reward però pensiamo che è reward però no dobbiamo evitare questo allora cos'è che con questa conversazione difficile cosa sono le cose più importanti di fare se voi siete in una situazione di proprio fare la pace per mettere le cose insieme tutti di noi sulla terra hanno bisogno di quella che si chiama scarf di spero che è tradotto correttamente status che prima cosa noi non possiamo perdere la faccia in tutti i mondi si fa così piuttosto nel mondo di arabo dei giapponesi tanti perde la faccia e ha perso tutto e poi come certezza si deve pensare sempre come di farlo quello è sempre il nostro lavoro quando facciamo questi workshop di vedere come certezza allora la gente il cervello deve sapere anche se è una brutta notizia meglio di sapere questo che non lo so si deve essere trasparente con la gente più che possibile perché se no il cervello può reagire una sorpresa è stata un po' l'autonomia perché l'autonomia vuol dire che la gente vuole fare le loro decisioni piuttosto più oggi con i giovani però è anche il momento di dire allora io ho capito quello non fare per loro lascia loro scoprire quando si insegna anche il sport è sempre che è loro che devono fare perché con il neuroplasticity noi sappiamo che questo è come strutturato il cervello fare lo stesso perché sono stata così terribile l'altro giorno con il mio programma di Microsoft Teams qualcuno sempre lo fa per me adesso sono tutti via e allora si deve fare noi stessi per imparare se no non si può imparare si deve proprio fare da solo e allora questo è autonomia that's how the brain works rispetto è chiaro ci sono culture latine in tante parti del mondo dove questa è una delle cose più importanti e cercano anche di negoziare bisogno di rispetto questo è certamente il mondo arabo perché tu sei tua famiglia e se uno fa male a te loro fanno la famiglia e allora basta di pensare di Zenga tanti anni fa è stato proprio qualcosa contro la sorella o la mamma eccetera questa è l'attacca che non si può sopportare uno di sua cultura fiducia allora di avere la fiducia nella gente abbiamo già capito però queste cose questo è il scarf model per lavorare con la gente in squadra per lavorare in team eccetera che dobbiamo avere assolutamente per lavorare bene e vivere bene insieme insieme next page eccolo è un po' lo stesso queste sono le domande sono rispetto e apprezzato come è stato e questo è il metodo come arrivare ok ok non hai voluto vedere quello non so se c'è qualcosa interessante per voi questi sono solamente da vedere per dire queste sono le parole che si deve usare per avere questo scarf importante ok vado avanti questo allora questo è proprio il tono in cui parliamo e questo è lo stress sulla parola qui in Italia per esempio uno dice cosa caffè città lunedì no e in questo tono può essere mal preso per gli altri paesi perché non capisco diversamente sono stato lì a Milano di comprare un polo con un amico inglese e sono entrato di comprare il mio polo ho detto al maturario ho detto ma tutti quelli che in inglese si chiamano free range e lui ha fatto ma signore ma cosa pensi che noi abbiamo questi poli che si mangiano così è continuato quando sono uscita mi amico mi dico ma cosa è successo niente ho occupato un pollo e allora qui si mette molto queste cose sulle robe su questa differenza che uno può pensare che uno è molto arragato o no e cambia molto con il tono e questo slide è una di ragioni per più divorzi fra latini e anglo-saxon perché l'anglo-saxon è sempre cosa succede e loro stanno lì a recuperare il polo di modo di squirsi e io vedo le differenze quando io passo da 20 miglia all'altra e proprio nella mattina tutti i francesi sono lì a prendere i loro panni in Italia di parlare parlare delle sport delle cose allora prossima pagina so quando si fa questo è proprio una metoda che viene di Michael Hammer e come risolvere i conflitti però prima di passare perché voglio utilizzare un po' di esempi voi avete un po' di esempi di utilizzare di conflitti puoi anche invitarli per vedere come che funziona o nel tuo lavoro Umberto nelle altre culture come questa differenza nella moda di sentire le robe il tono come può avere un impatto per anche voi nel gruppo sì ci sono come no a voglia avete degli esempi di conflitti che possono avere origine anche da aspetti culturali per esempio no sì e questo viene molto del e questo è tipico perché secondo Michael Hammer c'è quattro tipi discussione di coinvolgere la gente di essere molto dinamico di argue o proprio di avere un sistema e vediamo e poi dopo posso dare un esempio che è come io ho utilizzato questo vado avanti però è più divertente se voi avete interessanti se voi avete un esempio di utilizzare se no io do uno però avete uno che possiamo utilizzare come una situazione da analizzare qualcuno che è nel vostro gruppo che è stato indiretto uno che è stato indiretto non c'è nessuno esempio semplicemente avendo a che fare con il mondo anglosassone praticamente avendo studiato un po' in Inghilterra nel senso che si sa come ci si deve porre in maniera differente perché la cultura è differente quindi a secondo di dove si deve andare a lavorare come dire è meglio studiare un pochettino prima gli usi i costumi per non arrivare ad essere sbagliati quindi il tono di voce o come relazionarsi o magari noi facciamo più casino quindi quando si va in Inghilterra già sanno arrivano gli italiani sono molto loud però insomma sapere il contesto dove si va e come relazionarsi per evitare problemi dovuti a questi fraintendimenti culturali brava grazie avete in Italia questo film americano Ted Ted Lasso no Ted Lasso no dovete trovarlo Apple TV anche perché adesso ha vinto tutti i premi in America e la storia è di Ted Lasso che viene da Kansas e lui è una coach di football americano è invitato di venire in Inghilterra e da uno che vuole distruggere il suo squadro inglese perché ha fatto il divorzio con il marito e loro fanno il football italiano come in Europa e allora è proprio molto interessante perché lui deve avere lui usa tutte queste cose che abbiamo detto perché in teoria il nostro Ted deve fallire però non è mai fallito perché lui ha una maniera così umana di proprio utilizzare questo modello per vedere non solamente la cultura però queste differenze che c'è io posso utilizzare uno e comunque ogni settimana è una situazione che deve controllare lui io avevo una cosa che è stato in una situazione di petrolio e abbiamo avuto un nuovo capo texicano americano texicano e lui la sua maniera di parlare con i cinesi è stata così aggressiva perché uno dei cinesi ha provato di ha preso a cena un cottello niente di burro però ha toccato lui e lui è stato così imbarassato dopo i cinesi non il texicano e lui ha detto io ho saputo che è così perché i cinesi loro non fanno altro di lie 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 devono sempre mentire dire bugia mentire perché per lui il tex dice cos'è che pensi i cinesi sappiamo che no e comunque questo cinese mi sono ricevuto chiamato perché ha voluto suicidio no perché aveva così tanto tanto vergogna allora per risolvere io ho usato questo questo tipo di test e senza dire niente a nessuno perché io ho già saputo un po' la situazione chi è stato responsabile e loro hanno fatto questo test e quando l'abbiamo fatto abbiamo visto che questo è stato il problema e che c'è stato questi tipi di comunicazione che allora comunicazione che sono state così diversi che uno può prendere questa offenza e si può fare il prossimo perché è stato il prossimo che abbiamo capito tutti hanno fatto il loro test mettiamo in giro e poi dopo il next slide così che abbiamo scoperto questa aspetta next slide questa quando l'abbiamo fatto abbiamo visto che infatti è stato molto facile da vedere perché quello si può capire che uno è una parte e uno dell'altro e infatti quando loro hanno fatto e non è scritto qui mi pare però abbiamo visto con i statistici che questo stile di discussione americana che infatti c'è un gruppo che è ancora peggio e come sono le dinamiche come queste parole che urlano che sembrano che vogliono uccidere la gente è stato i tessicani si mette quello con uno che non può fare faccia e poi avete questo tipo di squadre anche quelli che sono molto comodo di discutere è normale è anche piacevole e quelli che dopo sono in tragedia vediamo il prossimo e cose che dicono allora quello stile che è indiretto che hanno tanti paesi come gli arabi è perché allora è bene di non posso vedere tutto però l'idea è che è meglio di pelare di palme meglio pelare e tante volte loro rispondono qualcos'altro e non si deve dire una roba e questo è come in Egitto tutto questo gruppo del west vogliono andare subito e parlare e avere questi discorsi con il direttore non può arrivare lui vuole parlare delle palme delle altre cose non risponde risponde che essere visivo perché se si fa così qualcuno deve morire praticamente c'è la battaglia il prossimo il stile conflittuale ci sono quelli che preferiscono e poi dopo vediamo dove sono gli italiani è quello che dice è quello che è nella bocca è quello vicino dal parte il nord texicano è stato così proprio quando lui ha pensato di essere bravo e chiaro e corretto perché lui ha fatto così in Kazakhstan non si può fare così con i Kazakh con i cinesi con i russi sì però quel gruppo hanno avuto tanti problemi solamente con come loro hanno parlato translators perché è traduttori sì finalmente perché per esempio uno di quelli americani mi hanno detto io quando io dico a loro che ho cominciato di dare parlacce eccetera voglio che l'hai tradotto così questo è come dire a qualcuno di dare un punch a tua nonna un pugno in flaccia sì e questa è discussione questo è sempre meglio di fare però ci sono tanti paesi latini che possono fare e domani sono tutti tutti bene insieme stanno bene insieme però quando noi possiamo capire meglio poi dopo così che abbiamo arriva allora questo è un altro questo è Kilman e questo per voi queste sono le cose che voi potete utilizzare abbiamo anche pensato un po' di farlo qui che è un modo come il Myers Briggs di comprare cos'è il vostro stile preferito tra tutti il gruppo abbiamo quello che stanno bene con le competizioni quelle che preferiscono fare un compromesso possiamo chiedere un po' dove siete voi cos'è il vostro perché non è uno che è corretto o no però cos'è lo stile che voi usate di più possiamo avere un po' di idee ma io uso tendo ad usare di più il compromesso compromesso così ognuno ha la sua parte però ognuno deve dare qualcosa ok altri siamo tutti compromessi e quando c'è il momento si deve essere competitivo nel senso che si deve risolvere così proprio se non non è risolto qualcuno che per quello nel mondo sportivo spesso e volentieri è quadrato in alto spesso c'è la competizione anche per la risoluzione dei conflitti ho visto tant'è vero serve spesso la mediazione di una terza parte indipendente molto interessante cosa ti ha detto perché vuol dire che questo è proprio il sport perché deve essere la parte di competizione però se non c'è l'altro c'è conflitti allora vuol dire che probabilmente voi avete un sacco di conflitti di così che ha detto adesso però nel conflitto cioè nel mondo sportivo il conflitto è parte integrante della regola però serve la terza parte indipendente che ha fiducia che genera fiducia e che ha una reputazione che risolve il conflitto no? sì è chiaro? pensiamo banalmente anche all'arbitro referee nell'ambito del calcio no? eh ok se l'arbitro non gode di fiducia e di stima qualsiasi evento in presenza di competizione poi genera un conflitto allora stai dicendo un po' che quasi ogni uno di questi può essere usato a un momento può essere quello giusto di scegliere non c'è sempre uno di utilizzare sempre o il contrario? io nel senso che io dico nel mondo sportivo spesso e volentieri anche il clima l'ambiente no? è un clima dove alcune emozioni sono molto forti anche per quello che abbiamo detto stamattina per cui è facile che ci siano situazioni di conflitto la palla entrata non è entrata è fallo non è fallo mi hai spinto non mi hai spinto è corretto non è corretto che è un po' più raro in contesti di business cosa succede? in queste condizioni la risoluzione del conflitto è lasciata a una terza parte indipendente che è l'arbitro referee come si dice in inglese l'arbitro? mi sembra umpire it depends on the sport sì arbitrator che è solo parola nel conflitto nel business arbitrator l'arbitrato esatto nel business e lì abbiamo l'arbitro invece per esempio nel calcio allora il risultato che si ottiene dipende dalla fiducia e dalla reputazione di chi è chiamato poi a prendere la decisione mi segui? e spesso si va anche per esempio attraverso dei sistemi informatizzati nel calcio esiste quello che si chiama il VAR cioè si rivede in video quello che è successo oppure nel tennis se avete visto per esempio le recenti competizioni è tutto più tecnologico perché si fa vedere la palla se era dentro il campo o fuori il campo proprio per gestire le situazioni di conflitto che vuol dire che il conflitto è una parte degli sport assolutamente perché c'è una che è contro l'altro esattamente 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 non si usa contrariamente al business non c'è un approccio collaborativo non può esserci no se no non avete basta dare la palla e tutti saranno è certo è certo e nessuno ha guadagnato e tutti i fans sono disposti però dobbiamo tornare al discorso del tribù si vede che la gente e questo io credo molto antropologicamente che la gente ha bisogno di sport perché è sempre nei nostri jeans e questo in inglese chiama pig skin lo sai the football is called the skin of a pig è l'animale è la caccia è la caccia è una parte molto molto importante e più di quello io ho visto in tanti paesi di quello è la colla è la colla del popolo è il tribù è il tribù però com'è importante di risolvere questi conflitti quando vengono fuori e in vostro mondo del sport ma forse ha ragione allora il compromesso competizione c'è però se c'è competizione c'è non può essere collaborativo perché se no non c'è la partita esattamente esattamente ma si può usare un po' tutto quanto a seconda del momento in cui si parla e a seconda della persona con cui si parla per esempio un coach con l'allenatore appunto con lo sportivo diciamo dell'agonismo a seconda del momento quindi dello stato emozionale diciamo del ragazzo che può essere più difficile o meno a seconda delle varie situazioni in cui ci si trova usare essere bravi a riconoscere quale metodo usare per poi come dire direzionarlo nella direzione più opportuna per lui e per la squadra eventualmente o se è uno sportivo individuale io mi occupo di uno sport individuale per portarlo nella direzione più opportuna quindi capire il momento quale metodo come approcciarsi come parlargli cosa usare e poi andare in una determinata direzione cioè magari oggi perdo io ma vinco domani no? mollo io oggi per lasciare campo a lui per direzionarle in una maniera ma mollo nel senso magari oggi è meglio non forzare la mano non parlare così si calma ne riparliamo più avanti però dipende attenzione che dipende molto cioè se parliamo di conflitti interni scusa Cintia cioè se parliamo per esempio di allenatore atleta c'è comunque una relazione di tipo passami in termine gerarchico che non può essere dimenticata cioè non può non può esserci competizione tra l'atleta e il coach assolutamente no? diventa diventa drammatico come non può esserci levitamento levitare in basso a sinistra in questo caso quello che si può utilizzare sono i due esterni cioè il compromesso e l'accomodante cioè dipende dal contesto nel quale e tra chi si genera il conflitto mi torna? tra un coach e un atleta non può esserci né competizione né evitamento altrimenti vengono a mancare proprio il rispetto dei ruoli tipici delle parti no ma sicuramente però per esempio può esserci compromesso dai momenti no? sì sì compromesso sicuramente nel senso per morestando alcuni sono esclusi proprio alcuni sono ripeto la parte sinistra del riquadro qui di questo schema di Kilman Kilman sicuramente non può verificarsi in un contesto interno ad una squadra per esempio tra coach e atleti no? altrimenti vengono a mancare i propri ruoli evitare di parlare tipo per mezz'ora magari quando uno è arrabbiato tanto non ne arrivi un punto quando si calma si va a non so a focalizzare no il problema quindi evitare ma io lo intendo in quella maniera lì quindi non mai nella vita cioè tu parli di gestione del ciclo di vita qui in realtà si parla proprio dell'evitamento cioè io non affronto in alcune culture per esempio come faceva l'esempio prima Sintia in alcune culture il conflitto si evita proprio per natura cioè tu puoi sbattere la testa contro un muro quello non è anche di vede e a te sale ancora di più la rabbia per esempio no? che potrebbe essere anche una strategia attenzione in negoziazione interculturale questa è un dirty trick si chiama cioè un gioco sporco che si può utilizzare cioè che non si può utilizzare perché non è etico però si utilizza ok sì sì valori assoluti e non momentanei sì sì ok sono proprio strategie Sintia allora io sto ascoltando è interessante senza dubbio perché si può capire del livello antipologico antipologo che allora la competizione è qualcosa che è una parte del gioco se non c'è la gioco quello è senza altro una parte non può essere accomodante perché vuol dire di dare la palla e compromesso può darsi però c'è una parola che che manca che non ho sentito e quello è quello prima di Scarf di quello abbiamo visto di neuroleadership che è il rispetto rispetto certo e si può avere io ho visto tanti paesi che la prima cosa è il rispetto si può fare tutto uno è arrabbiato se non è d'accordo con cose che ha detto il arbitro uno è arrabbiato però si deve dare rispetto a persone e si può sempre arrivare però basta di perdere il rispetto piuttosto con tante culture diverse del mondo e non può tornare indietro quello è la cosa che attacca fisicamente la gente perché noi siamo creati così mi ricollego a questo Cynthia per un fatto ancora una volta culturale ignorare un elemento culturale può essere interpretato dall'altra parte come una mancanza di rispetto sì mi pare di sì per esempio una volta in Paraguay ero in Paraguay avevamo un appuntamento io arrivo puntuale l'altra persona arriva 45 minuti dopo 45 io ero una belva ero diventato un animale proprio un animale mi ero incattivito in realtà poi parlando qualcuno mi ha spiegato dice no qui in Paraguay 45 minuti sono tollerabili è normale è normale ignorare una componente culturale io l'abbiamo interpretata come una mancanza di rispetto sì ma infatti infatti io penso anche di paesi come in Egitto anche con i giovani quelli che sono di una buona famiglia penso che possono arrivare un'ora in ritardo è un problema quando andiamo a fare queste riunioni a Alessandro il più alto che se sono arriviamo fino a più tardi che sono perché devono fare vedere che sono importanti e altre cose siamo sempre lì